Io sono Sergio Casesi, sono un musicista e un autore teatrale milanese, insieme a degli amici abbiamo dato vita alla catena musicale per Pinelli e per le vittime della strage di Piazza Fontana. Io invece sono Marco Toro, sono di Frosinone e suono la tromba nell'orchestra del Teatro alla Scala e nella filarmonica della Scala. Un po' di tempo fa ho raccolto un invito, credo fosse su Facebook, sui social, di Sergio per cercare un modo diverso per onorare Pino e quindi così è nata la catena musicale. La catena è stata una mia idea che ho subito accolta davanti a una birra da Marco Toro, Massimo Marcer e Marco Pellegrino, che sono gli altri due componenti del nucleo iniziale che ha messo in piedi tutto quanto. La mia idea era di fare qualcosa di diverso a distanza di 50 anni, che fosse qualcosa che includesse tutta la città e che portasse la storia di Pino a tutta la città per la prima volta, dato che il percorso di questa lunga storia mi è sempre sembrato diviso, sempre sembrato non... forse proprio divisivo. Purtroppo la conosciamo bene, sia la storia degli anni 70, poi i processi, poi tutto quello che è accaduto in Italia, sappiamo cosa si dice. Invece noi volevamo dire la verità e dirla a tutti. Però per fare questo ci serviva un mezzo che fosse il più possibile popolare e allo stesso tempo colto, allo stesso tempo fosse una forma di teatro urbano, ma semplice e a cui tutti potevano dare il loro contributo. Così abbiamo pensato una catena umana che unisse i due punti principali di questa storia, quindi Piazza Fontana e la Questura, però invece che fatta solo da persone che si tenevano per mano da persone con gli strumenti. E quindi di far emergere in città questo grande suono che tagliava la città e mentre la tagliava la univa. Questa era l'idea della catena. Sì, la cosa interessante secondo me è proprio ribadire che è proprio il mezzo che è stato scelto. È importante per me sottolineare proprio lo strumento che abbiamo scelto, che banalmente si dice che la musica è un linguaggio universale, però secondo me proprio la musica ha fatto in modo che il messaggio fosse più generale possibile. Quindi noi diciamo il repertorio, noi musicisti di mestiere, il repertorio era molto anarchico, però ovviamente noi abbiamo, noi anche le figlie di Pino, abbiamo cercato di aprire il più possibile questa manifestazione a tutti, a tutti coloro che sentivano a cuore la storia di Pino e storie simili. Diciamo, non abbiamo chiesto nessun documento di identità all'entrata. Questo è stato una cosa molto importante che poi possiamo dire ci ha causato qualche attrito, qualche difficoltà con un certo mondo. Lo scopo era ribadire una verità a tutti. Chi sono questi tutti? Tutti possiamo essere tutti noi o tutti tutti. Il nostro intento a 50 anni, specie per me che sono nato dopo, tutti i fatti, mi sembra incredibile, assurdo che una città come Milano, in Italia, in Europa, ma è una città colta, piena di intellettuali che fanno un lavoro interessante, persone stimolanti, ancora oggi deve chiedersi se cosa è accaduto, come, perché. La verità è quella lì, è stato ucciso mentre era in un interrogatorio, mentre era comunque trattenuto dallo Stato. Non so il particolare, ma questo ci basta per dire quello che è accaduto. È una cosa successa 50 anni fa, mi sembra incredibile che ancora oggi, e questo è il nostro intento, dire questa verità a tutti. Si è molto discusso nell'anno di preparazione, perché abbiamo lavorato un anno intero per la catena, che è stato più difficile del previsto, ma si è molto discusso se alla catena devono partecipare quelli di sinistra, quelli di destra, quelli di su o quelli di giù. È chiaro che lo scopo della catena era che questa verità fosse acclarata e accettata da tutti. Quindi io non lo so se uno di destra, ma io voglio che quelli di destra non possono pensare di dire una menzogna oggi per la loro battaglia politica, piuttosto che per un loro interesse elettorale, piuttosto che per fare due voti in più tra le forze di polizia. Questo vale per Pinelli e vale per tutti i Pinelli che ci sono stati prima di questi 50 anni e dopo. Perché noi purtroppo ancora oggi vediamo, e non è un problema solo italiano, come vediamo anche dagli Stati Uniti. Quindi il problema della violenza della polizia, del potere che lavora attraverso la violenza della polizia è un problema attualissimo. Dire questa verità e sbatterla in faccia a chiunque, in modo pacifico, io dico anche in modo pacifista, secondo me è stata una grandissima vittoria. Poi ci sono stati dei compagni che non hanno apprezzato e ci sono state alcune critiche sacrosante sul tipo di manifestazione. Ci sono state invece una larga parte di critiche che sono state sempre minoritarie nella gestione della cosa, ma che invece hanno esibito una violenza che ci ha lasciato abbastanza, che ci ha bruciato e ci ha lasciato un po' sgomenti. E questo è stato un argomento di discussione con Paolo Finzi, per esempio, che ha dato poi l'articolo che abbiamo scritto per Paolo sullo speciale della catena, di interrogarci su questa violenza. Perché noi siamo abituati, siamo sempre stati abituati a dire della violenza della polizia, la violenza dello Stato, la violenza dei fascisti, piuttosto che le violenze di piazza, piuttosto che una violenza del sistema. Ma oggi ci siamo davanti a una violenza nuova, che è quella dei social, che è questa grande onda dei social, che invece che permette di connettere le persone attraverso i contenuti, facilita il loro scontro. E qui c'è una violenza che favorisce il sistema, anche di chi si professa contro il sistema. E questo è molto interessante a livello anche sociologico, perché crediamo che se una cosa violenza doveva essere. Cioè di dire, questo tipo di violenza noi non la tolleriamo a 50 anni di distanza, la verità è perché non tolleriamo questo tipo di violenza, ma siamo già di fronte a un'altra violenza quasi inconsapevole, che fa sempre, al mio avviso, fa sempre il gioco dei potenti poi alla fine. Questo per rispondere alla tua domanda di come è nato il nostro interesse per Pinelli. Per quanto mi riguarda, io per le mie letture, i miei studi, mi sono sempre definito anarchico. Ho capito quest'anno che non ho mai fatto politica attiva, non credo di saperla fare. Ma ho sempre amato i grandi testi dell'anarchismo e seguo, io ho le mie opinioni, le mie riflessioni. Pinelli fin da ragazzo per me è stato il simbolo di una, non solo di una vita spezzata, del potere dello Stato, della strategia della tensione, ma è stato il simbolo anche di ciò che vuol dire essere anarchici. Come se per me l'anarchico fosse l'unico incolpevole. Ecco, quindi io sono anarchico perché immaginavo gli anarchici incolpevoli. Mentre abbiamo tantissime nella letteratura, la Montale o gli AIDS che dicono nessuno può dirsi incolpevole. Io dicevo, beh, ma forse ci sono gli incolpevoli a livello politico chiaramente, a livello morale o personale. Forse ci sono gli incolpevoli e sono questi, no? Sono quelle persone che alla fine, quando non ce n'è più, li gutano dalla finestra. Poi ci hanno maturato molto in quest'anno perché ho capito che anche in questo mondo c'è di tutto, ma resto anarchico, io personalmente resto anarchico e spero che la catena abbia in un certo modo, che non era, voleva essere una manifestazione solamente anarchica, questo è, ma per Pino e per l'anarchia. Era proprio questo il senso. Non c'entra niente forse, però mi viene queste parole bellissime che Sergio ha detto, mi fanno pensare a quella sera nella quale ci siamo incontrati al pub con Massimo, nella quale veramente abbiamo parlato solo della catena e di quello che volevamo fare. Non abbiamo parlato appunto dei nostri ideali anni, come singoli e non ci siamo chiesti, ma tu quanto sei anarchico? In che percentuale sei anarchico? Oppure sei più cos'ha? Sei più, no? Alla fine è un po' ingenuamente, però spesso nella vita l'ingenuità può darci la possibilità di compiere dei balzi inaspettati. Questa ingenuità ci ha portato a realizzare quello che abbiamo fatto, probabilmente. Poi ovviamente senza anche l'aiuto di conoscenze di Silvia e Claudia non sarebbe stata questa manifestazione con una partecipazione incredibile. Però mi piace pensare a quella scintilla di quella sera nella quale non abbiamo detto noi siamo così, quindi facciamo la manifestazione, ma abbiamo detto che cosa significa per noi Pino, che cosa vogliamo fare e da lì è partito tutto. Possiamo dire l'ultima cosa che, appunto, ci siamo trovati noi, poi abbiamo subito coinvolto Silvia e Claudia Pinelli e subito loro hanno sposato l'idea e hanno lavorato tantissimo anche loro per la realizzazione. Fino alla mattina io avevo paura perché meno di mille persone non saremmo riusciti. Quindi la mattina io mi sono svegliato e mi sono no, speriamo che ci sono almeno mille persone. E invece ne sono arrivate, boh, adesso... Sono arrivate talmente tante persone che poi bisogna ammetterlo, la vera catena è perché non era possibile. Perché noi avevamo calcolato dieci punti di raccolta dove un tutor preparato da noi avrebbe poi messo in fila le persone, avrebbe un po' diretto l'esecuzione che doveva essere appunto lunga, un chilometro e mezzo, ma ci volevano mille tutor. Quindi la cosa non era possibile. E la gente suonava, faceva, ma è stata bene così. È stato in governo, come noi Pink Floyd a Venezia, l'ordine pubblico, l'ordine anarchico. Io mi ricordo che io ero alla partenza, quindi a Piazza Fontana, ho faticato non poco, almeno dieci minuti perché c'erano dei gruppi di persone che suonavano. Allora io ero lì, scusate, dovrei partire con la catena, siamo qui per la catena, un'altra canzone e via un'altra canzone, scusate, l'ultima e via un'altra canzone. Quindi però è stato, insomma, è stata una festa. Poi ci aggiungevano messaggi, no, qui sono, non so, Piazza Beccaria, qui è ingovernabile. Allora è stata diventata un po' diverso da quello che volevamo fare perché la catena, come l'aveva organizzata Sergio, appunto, avete sentito che aveva misurato quanti strumentisti per metro, però è stata questa festa incredibile. Mi commuovo ancora adesso. C'è il video di Andrea Kerchi che fa vedere che la catena comincia, diciamo che è arrivati sotto la galleria, già lì ci sono dieci canzoni tutte insieme, però per un po', forse, appunto, grazie a Dio c'era troppa, troppa gente per, ed è stato bene così. Grazie a tutti.